... Magari alcuni brani li montiamo davanti a voi in modo da farli partecipare anche al momento di come si costruisce un lavorare insieme. Magari alcuni brani li montano il buccio nuovo che cantano e ballano 8 fasi del Pueblo di Ocusco a nostra signora del Carmen della città di Surgillo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti.